Epaca propone la propria consulenza sull'assegno sociale. È una prestazione che possono richiedere i cittadini italiani, stranieri comunitari o extracomunitari con carta di soggiorno, residenti da più di 10 anni in Italia, che abbiano compiuto i 67 anni di età e che non hanno contributi sufficienti per una pensione di anzianità o di vecchiaia. Per poterlo richiedere però, oltre al requisito dell'età, bisogna rispettare anche un requisito reddituale che per il 2022 ammonta ad euro 6.085,43 come reddito personale e 12.170,86 come reddito cumulato con il coniuge. L'assegno sociale per il 2022 ammonta a 468,11 euro. Per saperne di più, contatta il nostro patronato presente in tutti gli uffici zonali di Coldiretti Treviso. Ti aspettiamo per una consulenza gratuita e personalizzata.